Sono riniziate le conferenze dell'evento Terra e Clima, che parla appunto del cambiamento climatico. Già l'anno scorso, da ottobre dell'anno scorso, abbiamo già fatto diverse conferenze, toccando diverse tematiche. Sono riniziate, abbiamo già avuto un appuntamento e ora ci saranno altri due importanti appuntamenti. Uno, il venerdì 3 novembre alle ore 17.30 nella sala di rappresentanza della Fondazione. Avremo con noi il dottore Edoardo Costantini, che è il primo italiano che è stato nominato presidente dell'Unione Internazionale della Scienza del Suolo. Ci parlerà appunto del suolo, che è una tematica importantissima, toccando diversi argomenti, dal consumo del suolo, dalla legislazione sul suolo. Insomma, saranno diversi gli argomenti, però una voce più autorevole non ci può essere. Poi successivamente, invece, per l'8 novembre, ci sarà il professor Grammenos Mastroieni, che invece tratterà l'argomento, sempre il cambiamento climatico, però affrontando un aspetto più sociale. Perché lui è il presidente dell'Unione Mediterranea e parlerà appunto di come il cambiamento climatico va a impattare anche sulla migrazione e sulle guerre. E questi sono appunto gli appuntamenti. Poi proseguiranno altri appuntamenti fino a giugno del 24, dove andremo a affrontare tutte le tematiche, perché tanto il cambiamento climatico purtroppo va a toccare qualunque argomento e qualunque tematica. E quindi man mano affronteremo tante tematiche. È aperto a tutti, perché pur affrontando gli argomenti in maniera appunto molto autorevole e molto approfondita, comunque sono sempre trattati in maniera comprensibile e adatta a tutti quanti. Anzi, è proprio il nostro scopo è quello di sensibilizzare e più che altro dare degli strumenti poi per trasformare questa cultura sul cambiamento climatico in azioni concrete sul territorio. Quindi sono aperte a tutti.